Più di 250 famiglie hanno partecipato nel fine settimana all'open day vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni, organizzato nel lab di Via Napoleona. A questi si aggiungono oltre 1200 piccoli in questa fascia di età, che avevano fissato l'appuntamento nel weekend a Cuomo, Cantù e Menaggio, per un totale di oltre 1500 iniezioni effettuate nel fine settimana ai più piccoli. Per favorire la prosecuzione della campagna vaccinale tra i bimbi, era stata prevista la possibilità di presentarsi nel fine settimana anche senza appuntamento. Sabato in Via Napoleona sono arrivati 130 piccoli in autopresentazione. Ieri i numeri sono stati pressoché analoghi, con altre 123 iniezioni a bimbi non prenotati. Al totale si aggiungono poi le famiglie che avevano regolarmente prenotato la vaccinazione nel weekend. Nella giornata di sabato sono stati 400 a Cuomo, 260 a Cantù e 50 a Menaggio. Ieri oltre 300 a Cuomo e quasi 250 nel presidio Sant'Antonio Abate di Cantù. Il primario della pediatria del Sant'Anna, Angelo Silicorni, in occasione dell'open day, ha ribadito l'importanza della vaccinazione anche per i bambini e ha ripetuto l'appello ai genitori a vaccinare i figli dai 5 agli 11 anni. Proprio in questa fascia di età, i casi di Covid nelle ultime settimane sono aumentati e hanno registrato un picco. Tanti inevitabilmente i piccoli in quarantena o risultati positivi. La società italiana di pediatria ha chiarito le regole da seguire per la vaccinazione. Chi è in isolamento deve aspettare la fine della quarantena e il tampone negativo per effettuare anche subito il vaccino. Chi è risultato positivo al virus senza essersi vaccinato prima può effettuare l'iniezione con una dose da 3 a 12 mesi dopo la guarigione. Oltre i 12 mesi sono necessarie due dosi. In caso di positività accertata dopo la prima dose del vaccino, se l'infezione viene diagnosticata entro il tredicesimo giorno dall'iniezione, è necessario effettuare il richiamo da 3 a 6 mesi dopo la malattia. Se la positività viene accertata invece dopo 14 giorni e prima della seconda dose, questa non viene effettuata.